ciao e benvenuti a quattro calci in cucina programma che ci fa sentire tutti un po più chef viaggio nella cucina italiana internazionale attraverso il web oggi vogliamo andare in germania per sfattare un mito perché non è vero che i tedeschi non sanno cucinare la pasta la fanno con la barbellata anzi hanno mille altri modi per far la pasta che bello chef tedesco con un brutto problema in faccia delle altre cose un po di acne però vedi che lui comunque è uno che ne sa dice sono tante ricette un po sbagliate io quella originale ma tu sei tedesco perfettamente ma non è vero va l'acqua bolle allora il pomodoro la salsa ma no ma non è dentro ma perché è dentro l'acqua hai sbagliato hai sbagliato stai sbagliando va bene per la pasta allora c'è una riduzione di salsa di pomodoro comunque anche è finita è finita le verdure da saltare quelle in padella quindi fa un soffritto è un minestrone così ma perché ha fatto quello cos'è cioccolata è gelato al cioccolato no forse pomodoro concentrato ma lasciato un po aperto ecco che schifo ma non si muoveva oh una bella rimescolata ma cosa poi le spezie stai giustamente non saprà di nulla quella roba lì la paprika perché giustamente a me non uccidi la lingua mi ha messo un chilo ora si c'è rosso quello poco perché origano origano come si dice pizzico in tedesco appena appena ecco ora devi mettere una nuova pentola ma è tagliata malissimo non così ma dai ma non stare anche bollendo me l'hai detto e la chiudi eh certo e la chiudiamo così ma era ancora fuori eh sì è vero guarda qua che bel risultato ah bunda barbara bravo tutto ok un po' venuta bene vabbè ma ricapitoliamo la ricetta di questi spaghetti mandolinen sì alla tedesca ci vuole dell'acne giovanile poi i pomodori pelati i cubetti di verdura ma quelli della fitness quelli del minestrone poi cioccolata o concentrato di pomodoro poi paprika rigano timo cubi che sarà un quintale e basta ma quanto basta spaghetti tagliati male e tanta fiducia in se stessi porta per fare poi anche lo ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti